Un presidio costante per mettere pressione sui decisori politici presenti alla COP26. A Glasgow gli attivisti per il clima non mollano. Le strade della città scozzese sono animate dalle proteste, in gran parte pacifiche, per sollecitare misure urgenti contro il riscaldamento globale. Mercoledì manifestanti hanno denunciato il cosiddetto greenwashing, l'ambientalismo di facciata di molte aziende, motivate a costruire un'immagine di sé ingannevolmente positiva sotto il profilo dell'impatto ambientale. Alla conferenza sul clima gli investitori annunciano nuovi piani da trilioni di dollari per evitare che il pianeta si riscaldi più di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali, un'intenzione da verificare, secondo gli attivisti, che puntano il dito contro quegli stessi investitori che in precedenza hanno tratto profitto dal finanziamento delle imprese di combustibili fossili. Grazie!